Vergine, belli, così affascinanti, così bravi nel mettere proprio i gerani fuori dal vostro davanzale, nel senso di far vedere il meglio di voi, l'aspetto più gioioso, più colorato. Questo ripaga soprattutto giovedì, venerdì e sabato mattina quando una vostra richiesta potrebbe essere accolta, quando un progetto condiviso potrebbe sortire risultati ancora superiori alle aspettative, quando un colloquio potrebbe esservi accordato, un lavoro essere accettato, un complimento del capo farvi fare la ruota come i pavoni. Quindi la situazione tutto sommato non è male. Poi c'è Saturno che comunque inchioda nel tempo i buoni risultati che state ottenendo o che otterrete. L'amore è una Vien Rose, la fornicazione è una Vien Sfig, non è che vada così tanto bene.